andiamo dentro la grotta, si regge? Si, andiamo con precauzione, premetto che ho dimenticato di portare il casco quello protettivo però ho due passamontagna, ci troviamo in località grotta con un nucleo di marzo, questa è una delle grotte, entro, ci troviamo dopo due altre volte, vedete, ecco qui, vabbè andiamo a sporcare, vado, 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 ci sta dicendo, si, ecco la grotta, a rascura, vabbè, la palla grotta, come qui, eh, quale propongo spaglossare, non mossa però, allora per evitare di sporcarli, di strapparli più bene, perché qua, la roccia spesso si rompa, e spesso si rompa, il giubbino, ecco qui, vedete, io passamontagna, mi devo mettere il casco, il caspone, così più mesurizzazione, guardate, 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 quindi, come è buon, vedete, ci vuole anche agilità, avete visto, ho dovuto adoperare l'interocorpo, il tronco, la testa, le gambe, le mani, consideriamo anche che sono classe di 255.